Urlani, ieri è uscito Spider-Man al cinema e oggi io e Loco non potevamo non sfidarci nella casa di Spider-Man contro la casa di Venom, non faremo spoiler del film anche perché io purtroppo non ho ancora avuto modo di vederlo Ma ti rendi conto Loco che è tutto pieno, è tutto pieno, non c'è mai un buco libero per andare a vederlo E quindi niente siamo così, oggi ci sfideremo, io farò casa Spider-Man e Loco farà casa Venom Però abbiamo questo dropper che darà tre diciamo piccole cose che dovrò fare io e tre piccole cose che dovrò fare Loco Loco vuoi che inizio io? No faccio io, prendo le tue va bene? Prendi le mie vai Allora uno, due e tre Ok buttamole che intanto le faccio vedere Quindi uno Ok Che brutte cose che ci sono uscite Allora mi è uscito, vediamo un po' Mi è uscito vetro viola, grattacielo e colore azzurro Ma che cavolo Ok l'azzurro posso anche farlo Il grattacielo e il viola come cavolo faccio farlo? Vabbè io vado da te È un po' complicato Vai 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 sono carichissimo Ok 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 Il tuo è complicato Il tuo è complicato Cosa devo fare? Colore viola E? Bunker Come un bunker Un bunker e una pixel art Ma come faccio a fare la pixel art un bunker? Ti conviene fare direttamente la pixel art di Venom Alexa Imposta un timer di 15 minuti Ok Sono prontissimo tutto Ok Devo fare un grattacielo Allora ho un'idea Ho un'idea mal sana Ma è una bella idea secondo me Faccio metà grattacielo Dimmi Sto costruendo io qua Va bene me ne vado basta Vai via schifoso Dove cavolo? Non ho parole costruisci dalla mia parte te Allora Del vetro viola devo utilizzare Ma lo uso per le finestre il vetro viola Io cosa faccio? Il viola Cioè Ma come il vetro viola? Come faccio? Posso utilizzare anche Le window Però non ci sono viola Mannaggia Mannaggia Volevi Porca mia Sì in realtà ci sono le crimson glass trapdoor Posso usare quelle? No vero? No No Viola viola Ti faccio vedere Così mi dici se posso utilizzarle Vediamo Queste Queste viola dai Va bene Te le lascio usare No 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 vabbè Usale No ho deciso che farò le cose fatte per bene Basta non mi interessa Ma sei proprio sicuro? Sì sì sto prendo solo le misure adesso Ok così è perfetto Allora devo andare in altezza Ragazzi voglio fare una roba tipo super malsana Ma proprio Malsana è dir poco Come fai a fare in tempo? Non ce la fai mai Marci? No in realtà secondo me posso fare una roba del genere Facciamo che qua è così Ok poi il sotto lo rifaccio Allora facciamo così Perché non si potrebbe toccare la cosa rossa Allora facciamo ascia Ok E faccio così Allora io creo una parte di grattacielo Sì Ok E in questa parte di grattacielo dovrà uscire la testa di Spider-Man Che sarà la casa Interessante ma com'è che fai a farla esattamente? Eh mo ti faccio vedere Guarda che secondo me è una bomba eh Ma va bene vediamo se riuscirà a farlo Speriamo Io ci provo Tentar non nuoce Grattacieli ormai sono diventato un fenomeno a farli Io faccio schifo a far tutto Eh i grattacieli di Marce sono fortissimi eh I grattacieli di Marce sono bellissimi eh Ci hai riempito la big vanilla praticamente Ci sono solo grattacieli Grazie hai ragione Dai Non parla così Allora il glass l'ho fatto E mi piace Sembra proprio un grattacielo new yorkese Qui facciamo una porta Come door Come porta Che cosa mettiamo? Qualcosa in ferro c'è? Una porta rossa Una porta rossa vuoi che metto? Una porta rossa Spider-Man rosso Ho messo la porta rossa Guarda ho messo la porta Che bella sta porta Ma scusa Dov'è che ce lo metti Spider-Man te? Adesso vedi Adesso vedi Dirai ma Marci ma sei un mostro Ma sei un fenomeno Ma come ti è venuto in mente Tu toccherai la linea rossa? Sì toccherai la linea rossa E purtroppo tutto potevo fare Di conseguenza la tocco anch'io signor Laco Vai tranquillo Puoi fare quello che vuole lei Allora set bricks Set bricks E dentro voglio fare tutto di Come si chiama quel materiale lì? Aiuto È legno Shroom light Shroom light Shroom light Shroom light Shroom light Shroom light Facciamo così Facciamo così Facciamo un set Cioè sono le shroom light veri in questa cosa? Sì Penso di sì Vedi perché ora si è tutto illuminato Che bello Bellissimo Però sai dovevo spostare un botto più in là il coso Ho fatto tipo un grande Mi sa di sì Un po' attaccato al lato diciamo Vabbè tranquillo faccio un bel cut Ehm ma che bravo che sei E faccio un bel paste Vediamo quanto spazio c'ho Deve essere almeno di otto Allora uno due Uno due Uno due Uno due Mamma mia Loco C'è follia Lo sai che sei davvero bravo Lo sai che sei davvero bravissimo Loco Follia quello che voglio fare Follia pura Io mi sono preparato la concrete prima Sperando che sia Ah ti fa preparare le cose Allora sì Ebbè certo Il rosso potevo prepararmelo Faccio come se la testa sia gigante Ho due Uno due Uno due E uno due La testa La cosa deve essere così Ho bisogno Posso guardare una pixel art di Spider-Man Ti dispiace? Eh no no Io faccio pixel art Tu non fai pixel art Eh no Devo fare solo la Non posso guardare davvero Va bene Va bene Puoi guardarla Guardala Non ho tempo di guardarlo adesso Mi fai perdere tempo tu Ah è colpa mia adesso scusa Sì è colpa tua Ok Vediamo se mi ricordo come si fa Allora così Un due Tre Tipo deve essere E di tre deve essere Sì secondo me sì Non lo so Loco Non lo so Aspetta Quattro Cinque Sei Fammi contare Posso cercare Spider-Man un secondo Eh cercalo va bene Cercalo Davvero posso? Sì cercalo vai Spider-Man Ok Cercato Non ti batto Ti batto completamente Vediamo Loco Vediamo Io sto facendo una cosa di carino Una cosa di carino Io faccio una cosa incredibile La cosa più black Che abbiamo visto in vita tua Dai dai Vediamo Ok Spider-Man è Spider-Man Perché è uno Spider-Man Che guarda no È un po' un cattivone Lui che spia Così Cosa guarda scusa Guarda la città Dice è successo qualcosa Non è successo niente Oh è successo qualcosa E allora devo intervenire Spider-Man Spider-Man Mi sono Spider-Man 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 Vedi che è bellissimo Cioè meglio di così come può essere Scusami No È spettacolare Tranquillo È spettacolare Allora Due Tre Dove non copiarmi Ho fatto una cavolata E che devo fare anche le mani Che toccano il fuori Perché la testa C'è la Come te lo spiego Come te lo spiego Non so cosa vuoi fare Fai quello che vuoi Ma è tranquillo È bellissimo Questo è veramente Allora tanto deve essere una skin di Minecraft Raga Quindi in teoria basta che io faccio così Raga secondo me vi piacerà un botto quello che sto facendo Quanto è grande la Il braccio? Tre vero? Quaranta Quanti pixel è largo il braccio? Tre Otto Il braccio No vabbè ragazzi Vedete che sembra che tipo è così Mamma mia l'acqua Cos'è cos'è? Posso dire? No 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 Non guarda tranquillo No Ho fatto una cosa bellissima mi sa Senza Senza volerlo Il grattacielo è stata una hit Come cosa Se a te fosse venuto il grattacielo Cosa facevi scusa? Non lo so Avrei perso probabilmente Ma te aspetta Pixelart te la sei cercata su Google? No perché? Loco Te la sei cercata su Google vero? Ma secondo te cerco le cose su Google io? Sì La pixelart come cavolo ti può venire in mente di farla così? Boh sono un po' a caso sinceramente Sì Ok ragazzi Tecnicamente ci siamo Cioè deve essere la prospettiva la cosa giusta Vedete È lui che ha appoggiato un palazzo È uno Spider-Man gigante effettivamente Non è uno Spider-Man piccolo e risorio È grande La porta dove gliela mettiamo? Io gliela metterei qua O meglio possiamo mettergliela sotto Tanto se è rossa Gliela mettete No ragazzi Non ho mancavato la porta Io sono in ritardo Stai buono che qua Che qua Marci la sta combinando eh Marci la sta combinando totalmente Guardate che figata ragazzi Io faccio così Ma se io facessi gli occhi viola Venom Dici che è bello? Gli occhi viola Venom Devo usare il viola? Sì potrebbe Vero io devo usare l'azzurro Eh 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 Ti faccio gli occhi azzurri io Eh ma non vale Mi copri l'idea No vabbè Aspetta Concrete Light blue Light blue Meno male che me l'hai ricordato Se non avrei perso la sfida di conseguenza Ma scusa Dove mi stare zitto? Iron Spider-Man C'è le azzurri gli occhi Vero? La maschera Non so ma qui Se è Iron Spider-Man Sinceramente Bellissimo ragazzi Cioè se io giro la testa Se io giro la testa Sì dai ci siamo È carino È carina questa cosa qua Io entro qui Non so come potrei entrare qua dentro Eh Facciamo parkour Tipo così È stato fare il bunker Sì divertente Bello però questo potrebbe essere il pollice Quindi ci sta Bellissimo ragazzi Sì bisognava far parkour purtroppo Però sì ce la si fa Ce la si fa Ok Ho la casa Ho la casa loco Ho la casa Beato te Ora Devo arredarla Non è facile arredare una casa dentro Come la faccio? Di Crimson la faccio per forza? Ma sì dai La faccio di Crimson No non la faccio di Crimson Che wood abbiamo? Vediamo Vediamo un attimino Aspetta fammi cercare così Io posso cercare un table E vedere di che blocchi me lo fa Deve essere un blocco secondo me che fa contrasto Il birch Il birch Il birch Sì il birch lì dentro è la cosa che è migliore secondo me Bene Molto bene Togliamo tutto quello che abbiamo Tutto quello che abbiamo E andiamo a fare le cose Abbiamo un sink Abbiamo un cabinet Abbiamo un altro cabinet Abbiamo un sacco di cose che possiamo utilizzare Però Devo stare attento Molto attento A cosa? A loco? A tutto Ti sei attento a loco? Che ti fa esplodere tutto? A te a prescindere Burlone intanto nei commenti Scrivetemi Se avete già visto il film E Non spoilerate Dite se vi è piaciuto Dite Ah mi è piaciuto un sacco No non mi è piaciuto Sì mi è piaciuto un sacco No non mi è piaciuto Non mi è piaciuto Non mi è piaciuto Fate tipo così Ok Abbiamo tutte le cose che ci servono Ora mi serve Il frigorifero Come si scrive il frigorifero? Fridge 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 Il fridge lo metto nero Nero Fridge nero lo metto nero E ma lei ti fa l'osso Cioè ti fa lo spiderman Io faccio cose nere Tu rosse Vabbè ma tu puoi mettere dei dettagli rossi Oh ma si può aprire questo Ma? 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 Non sapevo questa cosa raga Che si poteva fare Cosa è successo? No si può fare Non lo sapevo E cosa? Vabbè prendiamo anche il nostro Io metto anche la lavastoviglia Ma metto tutta Io faccio un monolocale Anche il mio è un monolocale Tranquillo Sta tranquillo Perfetto Facciamo così fino a sopra La cucina la faccio sempre Identicamente allo stesso modo E sta cosa Devo cambiarla Devo assolutamente cambiarla In qualche modo Io faccio un sofà Non c'è la deep slate Sì che c'è la deep slate No Stiamo ancora Nella versione No c'è Scrivi deep slate Davvero? Nella creativa la trovi Ma questa cosa è incredibile Io non lascio nulla al caso Nulla Nulla lascio al caso Ricordatelo Questo qui è bello Perché ti cambia coloro Un pochettino Raga Ci sta Mi sembra una tv E la tv E la mettiamo Rossa Io però farei così Ma sai che secondo me Non vale la pena fare così tanto Ecco facciamo la piccolina Perché Spider-Man è piccolo qua dentro E intanto Alexa quanto manca il timer Ma è bellissimo la mia casa Ok fa schifo la mia casa Io non penso di riuscire a finirla in così poco tempo Anche io per niente Allora io faccio un soppalco Una cosa? Faccio un soppalco Non usano questi termini che non so cosa vogliono dire Loco il soppalco Come non sai cosa è il soppalco? No non so cosa è il soppalco Ma come non sai cosa è il soppalco? Non so cosa è il soppalco Ma loco ma che dici Ma veramente? Magari se mi dici un altro termine lo conosco Il soppalco è il soppalco Eeeh Come te lo chiamo il soppalco? Il soppalco è il soppalco? Sono serio eh? Apriamo Google Sopalco Il soppalco? Come lo chiami? Ah è quello il soppalco Eh adesso trovo Vedi io ti insegno pure cose nei video Cioè è incredibile questa cosa Non è che me ne insegno Non ho veramente parole No Tu mi hai fatto perdere tempo Non mi hai insegnato niente Eh infatti sì No ma infatti è così loco Era tutto premeditato Cattivo sei Cattivo sì 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 assolutamente cattivo Cattivo come non mai Cattivo come non mai Allora io qua ci metto le scale Ladder Le ladder di che odore le vuoi? Dai ti faccio scelgere le ladder Viola No viola no Eh mi hai fatto scegliere Azzurro se vuoi No no scelgo viola io Io faccio azzurro Allora cosa mi ho chiesto Vabbè allora le faccio viola Eh va bene le faccio viola Bravo Bravissimo Fio di te Di vetro viola le faccio Eh Esagerato Eh Si possono fare le scale di vetro viola Sto scherzando Non lo so Oh mio dio Si possono fare Però non posso salire Ma ogni tanto Non capisco Vabbè Fa niente Facciamo che vogliamo Per salire Ogni tanto va Ogni tanto non va Va bene così Mi serve un lettino Signore Signore Mi serve un lettino E tu metto la cucina Eh la cucina Senza cucina Guarda che perdi punti Te lo dico Cioè senza cucina Te lo sei inventato adesso te Eh no Eh no loco È così Cioè senza cucina Si sa che si perdono punti Ma dove la metto Non c'è un posto per la cucina Che non posso Ok la posso mettere qua Facciamo così Perfetto Qua si sale C'è questa cosina qui Mi piace Mi serve un tavolino Di quelli da Come si dice Da comodino Ok devo mettere il comodino Sì Birch Birch Il birch comodino Il comodino birch Capito Mi capito No No non mi hai capito Molto bene Meglio che tu non mi abbia capito Molto meglio Quelle metto però Ma mi sa che metto Questo qua Mi piace di più Sì 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 Questo mi piace di più Mettiamolo qui Eccolo qua E qua facciamo tutte le cose così Così uno può scendere Può salire Ma guarda c'è anche il secondo ingresso Ma che bello Ma c'è bellissimo Non so come io possa fare Entrare lì dentro Eccolo dove è la cucina Però c'è il secondo ingresso Cioè da me c'è anche il secondo ingresso Volendo Addirittura Sì 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 C'è il secondo ingresso E facciamo così 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 Bello Bello Molto bello Allora io realmente Ho finito Come hai già finito Io ho finito Alexa quanto manca il timer Al tuo timer da 15 minuti Restami Un minuto Come un minuto Non è possibile Un minuto Molto bene Un minuto mi piace Perché almeno ho il tempo Di fare gli ultimi dettagli È molto carina È molto carina la mia zona Ho anche il tempo Di mettere delle finestre Ma di cosa parliamo Loco Ma di cosa parliamo Cioè ma tu pensi Parliamo che ho perso Dici No dai Sì ho perso Un po' più di fiducia Loco Un po' più di fiducia Ti voglio un po' più fiducioso Sulla vita Ho perso Però mi sono impegnato Bravo E questo è l'importante Ricordati Impegnarsi vale più di Qualsiasi altra cosa In realtà vince Sarà anche bello però Ma che bello Io ho fatto anche la finestra Una finestra là qui Potremmo farla però Ah Sì Facciamo così E ci metto una finestra Da questa parte Qua E qua Che facciamo così Bello Io ho messo Ho tutto C'è tutto In questa casa c'è tutto Loco C'è veramente Eh nella mia Non c'è nulla Facciamo così Ah non si può fare Sta cosa Effettivamente Stavo facendo una cosa Che non si doveva fare Ma se io faccio Stavi barando Se io faccio così Scusami Non capisco perché Non vada comunque È molto strana Come cosa È molto strana Alexa basta Ok Vengo a vedere la tua Eh No Aspettare un attimo No 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 È finito il tempo Vengo Aspetta Aspetta dobbiamo mettere Un oggetto Non c'è quell'oggetto Dov'è Non c'è il cabinetto Ragazzi adesso io farò una cosa Venom Pixel art Andiamo un po' Cioè neanche si è impegnato Dicevo là Il primo risultato Ha preso Allora però apprezzo È carino È carino loco Sei stato bravo Perché l'hai fatto in 15 minuti E Grazie Bravo Bravo Va bene Grazie 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 Ah qua c'è la casa Qua dentro Eh dovevo fare un bunker Non sai Stai un po' te Com'è Ah ho capito Allora ci sta L'idea ci sta Mi piace Mi piace Bravo loco Non è brutta Vieni a vedere la mia Secondo me all'esterno è veramente bello Perché sembra veramente appoggiato a un grattaceno Ragazzi nei commenti ora sta a voi decidere qual è La casa mia Ci vediamo in un prossimo video Da Marcia è tutto Ciao Ciao